fare un attimo via la televisione, l'altro telecomando, l'altro un altro c'è deve stare un altro di un pc ho sbagliato ah fuck ho sbagliato autobahn 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 Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 . Doveva essere levata una macchina dalla pista. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. grazie a tutti. 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 mettono i maiali a pisi non c'erò la mappa ma l'albo c'è in lobby non c'erò la mappa 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 io è perché siamo usciti fuori dalla pista chi è primo io sono uno mi sa e chi è primo non è albo albo che posto non c'erò la mappa ok ho non c'erò la mappa 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.